Ubriaco e violento ha dato in escandescenze e poi ha colpito i poliziotti ferendoli. Per l'uomo un giovane cittadino rumeno ovviamente è scattato l'arresto e adesso dovrà rispondere di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati. È successo ad Arezzo alcuni giorni fa nei pressi della zona di Piazza Guido Monaco e Giardini del Porcinai. Tutto infatti sarebbe partito dalla segnalazione di alcuni esercenti della zona. Un uomo in evidente stato di ebrezza alcolica si stava girando lungo via Guido Monaco dove con fare minaccioso avrebbe insultato e molestato i passanti. La volante poco dopo ha così rintracciato il giovane nei pressi dei giardini del Porcinai. Qui con una bottiglia in mano ha continuato a dimostrarsi aggressivo al punto che gli agenti per immobilizzarlo hanno dovuto utilizzare dello spray urticante al peperoncino. Il giovane, anche una volta a terra, avrebbe continuato a dare in escandescenze procurando lesioni agli agenti. Neanche dopo essere stato trasferito in questura è riuscito a calmarsi danneggiando gli uffici. L'uomo è stato giudicato così ieri per direttissima ed ha patteggiato. Per lui è stato disposto un anno di reclusione con la condizionale e dunque è stato rilasciato.